il chiavistello davanti agli invitati c'erano quattro bicchieri pieni a metà il che di solito significa che gli invitati lo sono completamente avevano cominciato a parlare senza aspettare le risposte ognuno pensava soltanto a quel che aveva dentro di sé e le voci diventavano più sonore i gesti eccessivi gli occhi lucidi era una cena di scapoli di scapoli incalliti quasi vent'anni prima avevano cominciato il rito di quel pranzo a cadenze regolari battezzandolo il celibato a quei tempi erano quattordici tutti decisissimi a non prender mai moglie erano rimasti in quattro tre erano morti e gli altri sette sposati questi quattro tenevano duro e rispettavano scrupolosamente per quanto era possibile le regole stabilite all'inizio della loro curiosa associazione avevano giurato e se erano stretti solennemente la mano di tener lontano da quella che chiamavano la retta via tutte le donne che potevano preferibilmente quelle degli amici e ancora di più quelle degli amici più intimi e perciò appena uno di loro lasciava l'associazione e formava una famiglia rompeva subito e definitivamente ogni rapporto coi vecchi compagni e inoltre a ogni cena erano obbligati a una confessione reciproca raccontando con tanto di nomi e di particolari piccanti e dettagliate informazioni le loro avventure più recenti da questa usanza avevano coniato un modo di dire che ebbe subito fortuna tra di loro dir bugie come uno scapolo per la donna in genere avevano un assoluto disprezzo la consideravano un animale da piacere a ogni momento citavano Schopenhauer il loro dio e avrebbero voluto ripristinare gli harem e sulle tovaglie e tovaglioli che usavano nelle cene di celibato avevano fatto ricamare l'antico precetto mulier perpetus infans e sotto il verso famoso di Alfred de Vigny la donna, bimbo malato, dodici volte impura la forza di disprezzare le donne non facevano di conseguenza che pensare a loro non vivevano che per loro a loro dedicavano ogni attività, ogni desiderio chiamavano quelli fra di loro che avevano optato per il matrimonio don Giovanni decrepiti li prendevano in giro e ne erano temuti le confidenze particolari durante la cena del celibato era stabilito cominciassero proprio al momento dello champagne quella sera quei vecchi poiché ormai erano vecchi e più invecchiavano più si raccontavano fantastiche avventure furono inesauribili ognuno dei quattro in un mese aveva sedotto almeno una donna al dì e che donne! le più giovani, le più nobili le più ricche, le più belle terminate le loro storie uno di loro, quello che aveva parlato per primo e aveva quindi dovuto ascoltare gli altri, si alzò e adesso che abbiamo finito di scherzare disse vi voglio raccontare non l'ultima ma la prima avventura intendo proprio la prima avventura amorosa della mia vita la mia prima caduta perché si tratta di una caduta tra le braccia di una donna non intendo certo raccontarvi come dire la mia iniziazione quella no l'iniziazione non ha niente di interessante di solito è un ricordo laido da cui ci si rialza un po' sporchi con una bella illusione di meno un vago disgusto una lieve tristezza la realtà dell'amore fisico la prima volta che si prova è quasi ripugnante pensavamo fosse ben diversa più delicata più romantica si rimane con una sensazione morale e fisica di nausea come quando per caso mettiamo la mano su qualcosa di unto e non c'è nemmeno un po' d'acqua per lavarsela è inutile strusciare quella sensazione non se ne va comunque ci si abitua rapidamente io rimpiango solo di non aver potuto consigliare il padre eterno nel momento in cui ha preparato la faccenda non so con precisione cosa avrei immaginato ma certo avrei fatto qualcosa di diverso avrei cercato un'unione più poetica più nobile sì proprio più poetica eh sì mi pare che il buon dio si sia mostrato troppo troppo naturalista non c'è stata poesia nella sua invenzione adesso quella che voglio raccontarvi è a proposito della prima signora per bene che ho sedotto la prima donna della buona società chiedo scusa avrei dovuto dire la prima donna della buona società che abbia sedotto me e infatti da principio noi ci facciamo sedurre mentre dopo dopo succede sempre la stessa cosa era un'amica di mia madre una donna piena di fascino una di quelle persone che se sono caste lo sono solitamente per la loro cretineria mentre se si innamorano diventano pazze furiose e poi dicono che siamo noi a corromperle sì proprio con loro è sempre il coniglio che apre la caccia mai il cacciatore pare che non ci pensino mai questo lo so bene e invece non pensano che a quella cosa lì senza parere fanno di noi quel che gli garba e poi ci accusano di averle rovinate disonorate svergognate e via di questo passo quella di cui vi sto parlando aveva di sicuro una gran voglia di farsi disonorare da me avrà avuto trentacinque anni io non ne avevo ancora compiuto ventidue non pensavo a sedurla più di quanto pensassi a farmi frate trappista un giorno ero andato a farle visita e notavo con stupore il suo abbigliamento una vestaglia molto aperta spalancata come il portone d'una chiesa al momento della messa lei mi prese la mano la strinse sapete come fanno la strinse come loro sanno fare in certi momenti e con un tenero sospiro di quelli che vengono dal profondo mi disse caro ragazzo non mi guardi in quel modo naturalmente divenni più rosso di un pomodoro e ancora più timido del solito avevo voglia di andar via ma lei mi teneva la mano stretta stretta se la posò sul seno un seno abbondantuccio e mi disse ecco senta come mi batte il cuore batteva sì cominciavo a capire ma non sapevo come fare né da che parte cominciare dopo sono cambiato poiché ero rimasto con la mano appoggiata sulla grassa fodera del suo cuore e col cappello nell'altra mano e poiché continuavo a guardarla con un sorriso vacuo un sorriso sciocco e impaurito lei si alzò irritata e disse di scatto insomma che state facendo giovanotto siete un maleducato senza creanza tolsi subito la mano smisi di sorridere valbetai qualche scusa mi alzai e andai via stordito e frastornato ma ormai c'ero cascato e pensavo a lei mi sembrava incantevole degna d'adorazione mi persuasi che l'amavo che l'avevo sempre amata decisi d'essere audace perfino temerario quando la rividi mi fece un sorrisino di convenienza quanto mi turbò quel sorrisino e mi strinse la mano lungamente in modo eloquente da quel giorno la corteggiai o almeno sembrava che fosse così in seguito e la sostenne che l'avevo sedotta conquistata disonorata con un raro macchiavellismo con una raffinata abilità una perseveranza da matematico e una furberia da pelle rossa c'era un particolare che mi turbava in modo strano in quale luogo si sarebbe concluso il mio trionfo io vivevo in famiglia e la mia famiglia su questo punto era intransigente non avevo il coraggio di varcare in pieno giorno l'ingresso di un albergo al braccio di una donna non sapevo a chi chiedere consiglio venne in una giornata di novembre quella visita che avrei voluto rimandare mi mise in agitazione perché non c'era fuoco e non c'era fuoco perché il camionetto fumava proprio il giorno prima avevo aspramente rimproverato il padrone di casa un ex commerciante e lui mi aveva promesso che sarebbe venuto di persona con il fumista entro un paio di giorni per rendersi conto di persona dell'entità dei lavori da fare appena lei entrò le dissi non c'è il fuoco acceso perché il camionetto fuma sembrava che non m'avesse nemmeno sentito balbettò non fa niente ne ho io nel vedere la mia confusione interruppe la frase a metà altrettanto confusa poi aggiunse non so più quello che dico sono pazza ho perso la testa di cosa sto facendo signore e dio perché sono venuta qui disgraziata che non sono altro che vergogna e singhiozzando si buttò tra le mie braccia credetti sinceri i suoi rimorsi giurai di rispettarla ma lei cadde ai miei piedi mugolando come non t'accorgi che ti amo che mi hai vinto mi hai fatto perdere la testa pensai che era venuto il momento per cominciare i preliminari amorosi ma il trassalì andò sino all'armadio per nascondervissi mentre gridava non mi guardare no no mi vergogno con tutta questa luce almeno se tu non mi vedessi se fossimo al buio di notte ci pensi che meraviglia questa luce mi precipitai alla finestra chiusi gli scuri tirai le tende oscurai con un cappotto quel filino di luce che ancora trapelava poi a mani avanti per non inciampare nelle sedie col cuore falpitante la cercai e la trovai fu un altro viaggio in due a tastoni con le labbra unite verso la parte opposta della camera dove era sistemata l'alcova sono certo che andavamo a zigzag perché da prima sbattei contro il caminetto poi contro il cassettone finalmente trovai quel che cercavamo in un'estesi di frenesia dimenticai tutto passò un'ora di follia di entusiasmo di gioia soprannaturale poi fu movinti da una deliziosa stanchezza e ci addormentammo abbracciati sognai nel sogno mi pareva che mi chiamassero che qualcuno stesse gridando aiuto ricevetti un colpo violento e aprì gli occhi oh il sole al tramonto rosso e splendido entrava tutto dalla finestra spalancata sembrava ci osservasse dal limite dell'orizzonte illuminando con fulgori da apoteosi il letto in subbuglio su cui una donna smarrita urlava si dibatteva si contorceva agitava mani e piedi per acchiappare un lembo di lenzuolo o di tenda o di qualsiasi cosa mentre rigidi nel centro della stanza esterrefatti il padrone di casa in finanziera il portinaio e un fumista nero come il demonio ci contemplavano imbambolati mi alzai furibondo con una gran voglia di prenderli per il collo e gridai perdio che ci fate in camera mia il fumista fu preso da un riso irresistibile e lasciò cadere dalle mani il pezzo di lamiera il portinaio osservava spiritato le mie nudità e il padrone di casa sussurrava con un filo di voce ma signore siamo venuti qui per il caminetto il caminetto il caminetto io urlai fuori dai coglioni per dio il padrone di casa si tolse il cappello con alia confusa insieme con Pita camminando all'indietro mormorò vi chiedo scusa signore vi chiedo perdono se avessi immaginato di disturbarvi non sarei venuto il portiere mi aveva detto che eravate uscito scusatemi scusatemi se ne andarono da quella volta non ho più chiuso le finestre ma tiro sempre il chiavistello non ho più chiuso non ho più chiuso